ciao a tutti e tutti siamo con arbera galliù reporter giornalista dell'albania news e ci racconto molto brevemente subito cosa succede in albania salva a tutti niente sono rientrato ieri precisamente da da tirana dove continuano i le manifestazioni e gli scontri con le forze dell'ordine da parte dei manifestanti perché perché appunto l'otto dicembre un giovane ragazzo di 25 anni è stato freddato da due colpi di arma da fuoco sparati da un funzionario della polizia di stato inizialmente si era parlato appunto di una pistola in possesso del giovane arma che tra l'altro è stata ritrovata molto distante dal luogo dove si è consumata la tragedia il ragazzo si era fatto trovare praticamente fuori dalla propria capitazione durante il coprifuoco notturno imposto dal dalle norme anti anti covid che è previsto dalle 22 alle 5 di mattina in albania e ancora non si sono capite le vere motivazioni della gente che ha sparato si dice appunto anche la la versione della polizia è stata cambiata diverse volte inizialmente si è parlato appunto di una pistola poi successivamente del fatto che era stato trovato fuori appunto durante l'orario del coprifuoco senza mascherina e quant'altro però tutte motivazioni insomma non reggono tra l'altro l'effettivo del della polizia di stato si è presentato ieri davanti ai giudici dichiarando appunto di essere di essere di aver commesso insomma il reato e di attendere insomma la 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 giusta la giusta condanna eh da quello che insomma prevede la la legge albanese rischia fino a sette anni di eh reclusione per abuso di potere finalizzato insomma all'ovicino ovviamente ci sono state le le prime reazioni in maniera del tutto spontanea perché appunto eh sfruttando il tam tam sui social network centinaia migliaia di giovani sono arrivati eh subito il giorno seguente neanche ventiquattro ore dopo a manifestare a manifestare inizialmente davanti alla sede del governo e successivamente davanti al ministero degli interni una manifestazione eh che è partita in maniera pacifica per poi diciamo degradare arrivare al eh agli scontri e anche a ad atti vandalici perché appunto si è tentato di entrare all'interno della sede del governo si è tentato di eh rompere il cordone dei poliziotti per entrare all'interno del ministero della difesa poi sono stati dati alle fiamme insomma eh alberi eh sono stati danneggiati insomma gli addobbi natalizi della della città di Tirana quindi in piazza Scanderbeg i manifestanti chiedevano ad alta voce le dimissioni del ministro degli interni eh cosa che è avvenuta il giorno seguente proprio mentre per la seconda notte consecutiva i manifestanti giovani erano scesi in piazza ma nonostante appunto le dimissioni del del ministro degli interni eh le manifestazioni sono continuate eh sono diventate ancora più violente eh io ero personalmente presente durante le eh manifestazioni di eh venerdì eh scorso in piazza sono scesi giovanissimi ho visto ragazzini minorenni in in piazza sono scesi in maniera del tutto non organizzata infatti questo ha preso molto difficile anche da parte degli effettivi insomma delle della della polizia il il controllo diciamo no della della folla tanto che a tratti si sono mh diretti verso eh centri della città dove praticamente è stato impossibile controllarli quasi in tutte le manifestazioni anche in quella di ieri sera sono sono state sono state fermate delle persone soprattutto gli organizzatori coloro che si sono ritrovati a capo delle delle manifestazioni anche perché ricordiamo che si tratta comunque di manifestazioni illecite in quanto non sono state non sono stati richiesti permessi per l'organizzazione di tali manifestazioni manifestazioni che sono hanno toccato anche altre città d'Albania in alcune città si è manifestato in maniera del tutto pacifica in altre come per esempio a Scutari invece si è arrivati insomma a allo scontro addirittura quello che più mi preoccupa è il fatto che per esempio ieri a Scutari tra i manifestanti ho notato molti giovanissimi minorenni ma soprattutto che la manifestazione rischia di prendere un'altra piega quindi di prendere una piega più politica perché perché ieri proprio ieri la i manifestanti a Scutari hanno saccheggiato praticamente la 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 sede del del partito socialista partito di del premier e di rama dando alle fiamme tutto ciò che riuscivano a eh estrarre da dentro il partito addirittura eh sono state denunciate come dicevo eh gli organizzatori tra gli organizzatori pare ci fosse insomma almeno da quello che emerge dal dalle denunce presentate da dalle forze dell'ordine quant'altro anche è scattata la denuncia anche per la sindaca di di Scutari che tra l'altro appunto è del dell'opposizione l'opposizione sostiene sostiene il manifestanti che dichiarano appunto di continuare ad oltranza eh finché questa volta non ci saranno le dimissioni del capo della polizia quindi la situazione diventa un po' un po' complicata non sappiamo non si sa appunto quando cesseranno le le manifestazioni eh se ci sarà la se ci saranno le dimissioni del capo della polizia di stato sta di fatto che ogni giorno insomma eh si continua ad oltranza a manifestare in Albania e non solo a Tirana questa è una una situazione bollente diciamo per il governo e anche per il paese che si presta e si avvia verso le le elezioni di aprile 2020. Qua emerge l'ultima domanda tutto questo per via di un dell'uccisione di un giovane oppure per chiedere le dimissioni del ministro dell'interno oppure capo della polizia oppure secondo te c'è qualcos'altro stress oppure altre motivazioni dietro? Ma le motivazioni Murat sono sono tante io conosco perfettamente insomma i meccanismi che si mettono in atto in questa situazione in Albania si arriva insomma alle manifestazioni quasi sempre prima delle elezioni si è si è arrivati eh anche in maniera tragica nel 2008 quando ci sono eh stati a manifestare per esempio i partiti che attualmente governano l'Albania si è arrivati a manifestare anche due anni fa andiamo in in Tirana a Tirana dando fuoco tra l'altro al proprio al palazzo del governo questo è un metodo che ha segnato la storia diciamo così democratica del del paese delle aquile certo c'è un malcontento generale malcontento generale del del popolo albanese dovuto soprattutto anche a questa crisi eh emergenziale no dovuto al 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 coronavirus eh allo stesso tempo eh c'è un malcontento verso le forze dell'ordine che sono state infatti ragazzi che scendono in piazza sono indignati appunto dal dall'abuso di potere come dicono loro no da parte delle forze dell'ordine quindi questa questa violenza esercitata da parte delle delle forze dell'ordine non solo durante le eh manifestazioni ma in generale in in Albania in questi ultimi in questi ultimi anni quindi c'è un malcontento generale che ovviamente sfocia nel momento dell'uccisione di un giovane ragazzo va detto che comunque eh le misure tra prese dal dal governo sono esemplari perché è stato dimesso il ministro degli interni è stato arrestato il responsabile del di questo omicidio farei un paragone al caso Stefano Cucchi in Italia dove ancora oggi nessuno si è dimesso nessuno si è scusato e ancora non sappiamo chi sono stati i veri responsabili però giustamente il tutto viene anche condito dal dalle elezioni che ci saranno nel duemilaventuno appunto ad ad aprile non si sa ovviamente a me è sembrato che i ragazzi scesi in piazza a manifestare siano poco organizzati questo mi lascia pensare che non ci sia dietro un sostegno vero e proprio delle opposizioni eh sappiamo benissimo insomma come nei Balcani e in Albania e anche lo sai bene quanto sia semplice insomma strumentalizzare magari fatti del genere da parte di chi sta al governo chi sta all'opposizione eh i ragazzi che sono scesi in piazza ripeto in maniera spontanea però allo stesso tempo insomma eh secondo me potrebbe esserci anche questa patata pollente da parte del del governo che difficilmente gestirà secondo me fino a aprile duemilaventuno grazie a Arber Agalliu reporter giornalista dell'Albania News buona giornata grazie a tutti